Buonasera e bentrovati in Affinity Dog. Qualche giorno fa il nostro incaricato alla comunicazione dei canali social ha pubblicato la foto che vedete in sovraimpressione e che ha generato commenti ai quali vogliamo rispondere. In qualità di direttore della nostra associazione ci tengo a farlo personalmente. Punto numero uno. Il paragone del cane in ufficio, peraltro fatto adottare da me dalla Sardegna e del cane corso comprato e poi abbandonato, non voleva essere assolutamente discriminatorio. L'intento era ed è quello di evidenziare due realtà completamente diverse nella stessa nazione. Ci tengo a precisare che nel post non si parla solo di abbandono ma anche di randagismo e sono due fenomeni completamente differenti. Il primo è presente in tutta la nazione ed il secondo no. Punto numero due. In questo punto diamo dei numeri. In Italia i cani randagi oscillano tra le 500.000 e le 700.000 unità. Gli ultimi dati del 2017 rilevano che in Lombardia sono stati restituiti 9.183 cani e recuperati 10.183, gran parte dei quali provenienti dalle staffette. Questo dato può essere interpretato in tanti modi ma di sicuro ha quasi un rapporto uno a uno. Sicuramente in Lombardia è frequente il fenomeno dell'abbandono ma non è frequente il fenomeno del randagismo, inteso come cane vagante. Altro dato importante è che in Lombardia sono state aumentate le registrazioni degli animali d'affezione. Il numero è di circa un milione e mezzo di unità al 21 giugno del 2019. Nei canini lombardi vivono in maniera stanziale circa 2.872 cani, dato registrato nel 2017. Punto numero 3. Il post è stato definito qualunquista. Riporto qui di seguito la definizione di qualunquismo. Il qualunquismo è un atteggiamento vagamente ispirato dalle azioni del movimento dell'uomo qualunque e che rinnega o almeno intenzionalmente ignora l'aspetto politico del vivere associato. Detto questo il post non era affatto qualunquista ma semplicemente evidenziava una situazione reale del vivere quotidiano. È difficile vedere per Milano anche nelle zone periferiche Bergamo, stessa situazione, Verona o in altre città cani vaganti per più di qualche ora perché vengono sempre recuperati e stanziati nel canile sanitario di zona per il recupero. In altre regioni ci sono cani vaganti per anni e vengono cippati dai comuni a cui viene attribuita poi la responsabilità di mantenimento. Come ben vedete non siamo affatto qualunquisti, né io né tantomeno i miei collaboratori. Da anni siamo attivi con la nostra professionalità nei luoghi dove il randagismo è diffuso, in primis Sicilia e Sardegna. sempre per questo motivo saremo ospiti presso un convegno a Marsala per delineare strategie atte a migliorare la situazione con i volontari di zona in maniera assolutamente sinergica. Parliamo perché conosciamo le situazioni e altrimenti ce ne staremmo tranquilli seduti sulle nostre sedi. Ho voluto chiarire alcuni punti di quel post perché è stato frainteso, ci sta e fa parte della comunicazione, specialmente quella social. Detto questo vi ringrazio per averci ascoltato, noi continuiamo a lavorare in questa direzione al di là dei consensi e delle definizioni. Grazie di cuore, Marzio Sala, presidente di Affinity Dog.